In vista di questa riforma del sistema delle indicazioni geografiche in Unione Europea, qual è il ruolo dei consorzi a tutela degli imprenditori? È fondamentale, speriamo, questa riforma andrà a riclassificare 3.400 prodotti tra DOP e IGP per un valore di 71 miliardi a livello europeo, 17 sono di pertinenza italiana. Come consorzio dobbiamo giocare una partita all'attacco, dobbiamo essere lì presenti e troppo spesso ho sentito dire noi siamo andati e abbiamo battuto i pugni sul tavolo, però poi troppo spesso dopo aver battuto i pugni sul tavolo ce ne siamo andati. Noi consorzio di Arancia Rossa di Sicilia IGP saremmo lì, batteremo i pugni e resteremmo lì per vedere che almeno un paio di punti possano far parte di questa riforma. Catania, Enna, Siracusa, oltre 400 produttori, il consorzio si rivolge anche ad altre realtà per fare sistema? Dobbiamo lavorare tutti insieme, oggi ho dico che è una giornata di presentazione in quella che per noi è la capitale dell'Arancia Rossa di Sicilia, tutto ciò che riguarda l'Arancia Rossa di Sicilia è le pendici dell'Etna e quindi questo è un legame fortissimo che noi abbiamo con la Sicilia e con queste tre province di Enna, Siracusa e Catania che guardano l'Etna. La grande distribuzione come viene vista in questo contesto? Stiamo lavorando bene insieme, chiaramente quando ci sono di mezzo i soldi e gli affari ogni tanto ci possono essere dei momenti di incomprensione, però devo dire che in quest'anno e mezzo abbiamo lavorato bene insieme e sempre nella direzione giusta. Il mercato estero? Il mercato estero è il nostro mercato di riferimento, l'IGP viene percepito come un mercato di nicchia, un mercato più ricco, dobbiamo riconquistare posizioni che purtroppo abbiamo perso e dobbiamo poi far sì che il mondo possa conoscere il nostro prodotto. Siamo qua, siamo impegnati, ogni giorno lavoriamo nelle nostre aziende per garantire questo. Cosa differenzia l'Arancia Rossa e IGP dal resto? Un suo disciplinare che è un po' la bibbia di un prodotto IGP, cioè dice com'è coltivato, l'attenzione che abbiamo per l'ambiente, per la natura, per il rispetto della conservazione dell'acqua, le buone pratiche col personale e poi abbiamo anche questo valore aggiunto dei crediti di carbone di cui oggi discuteremo e questa è tutta una sfida che si inizierà a giocare in Europa tra credo due anni. Noi già da oggi siamo nella partita. Grazie a lei.